Ma vado anch'io? Ma dove? A cercare il professore? Ma no, è perfettamente inutile, caro amato. Io lo ringrazio molto del suo interessamento. Ma penso che nonostante le nostre preoccupazioni, il professore, ormai con questo tempo, non verrà più. Mi faccia il santo piacere. Tia calmo. Tia calmo, caro amato. Tia calmo.